Grazie, buongiorno a tutti. Sì, volevo cominciare, quando parliamo di migranti, rifugiati, richiedenti esili, è bene un attimo soffermarci un po' su chi sono queste persone e in che condizioni noi le incontriamo. Io volevo partire, prima di tutto, da due domande. Perché insegniamo la lingua italiana ad adulti stranieri e perché per loro è importante apprendere la lingua italiana nel momento dell'arrivo. E vorrei un attimo lasciar perdere l'apprendimento della lingua italiana come necessario per l'integrazione, ma soffermarci su altri aspetti di questa importanza. E per iniziare volevo citarvi una poesia di Biagio Marin nella raccolta di L.G. Estriane, che narra appunto il dolore dell'esilio in quanto lui è stato esule e dice Questa poesia, dal mio punto di vista, è centrale nel nostro lavoro e ci offre molti spunti di riflessione perché c'è il sentirsi paglia al vento, cioè l'essere strappati, l'essere sradicati. C'è l'impossibilità di mettere nuove radici e questo ci ricorda l'importanza del radicamento come anche ci diceva Lavel nella prima radice che il bisogno di radicamento è uno dei bisogni fondamentali dell'anima umana. C'è il dolore di questo cuore in continuo lamento per la perdita della propria casa. In un'altra poesia Biagio Marin dice mai più vedremo le porte di casa che nascere ci hanno visto e poi la cosa che dal nostro punto di vista ci interessa di più è questa immagine meravigliosa secondo me di questa bocca che non sa quel che dice e quindi lo spesamento culturale, identitario dovuto appunto alla lingua e all'essere diventati degli infanti, infanti in quanto non parlanti, dei balbettanti e quindi questa regressione e questa perdita di autosufficienza nel momento in cui si arriva in un paese straniero. Per cui è compito dell'insegnare l'italiano come L2 rispondere a questa particolare condizione così come è descritta da questa poesia. Noi siamo assolutamente, profondamente convinti di sì che acquisire la lingua significa acquisire presenza. Lingua come logos non è semplicemente parola ma è relazione. Acquisire la lingua vuol dire acquisire presenza e presenza nel senso in cui ce l'ha descritto e ce l'ha raccontato Ernesto De Martino quando diceva che la presenza è essere una persona di senso in un contesto di senso. Il sentimento della crisi della presenza così come ci descrive Biagio Marino in questa poesia è perdere il proprio senso come persona e non ritrovare più il senso del contesto in cui si è arrivati. E la caratteristica principale di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e badate bene, facciamo molta attenzione perché questi richiedenti asilo, questi rifugiati, queste persone di cui sto parlando sono le persone che noi stiamo rispingendo nel canale di Sicilia nelle carceri libiche che è una delle cose più barbare della storia di questa Repubblica totalmente misconosciuta e poco percepita dalla società di questo paese ma quello che sta avvenendo nello stretto di Sicilia e in Libia su un mandato italiano è una cosa assolutamente barbara e io vi sto parlando, le persone che noi abbiamo incontrato questi anni sono le stesse persone che stavano su quei barconi e che negli ultimi mesi non sono più potute arrivare a causa dei rispingimenti. La caratteristica principale di queste persone, ci dice Papadopoulos che è uno psicoterapeuta che lavora a Oxford, non è tanto il trauma, il trauma della guerra, il trauma della persecuzione, il trauma del viaggio ma è la perdita della casa appunto. La casa, in inglese ci sono due termini per dire casa, house e home. House è la costruzione, l'home è la casa affettiva, è il fascio di sentimenti connessi alla casa in termini individuali, familiari e sociali. Un anarchico inglese diceva abbiamo una house e la dobbiamo rendere home. La perdita della casa è la caratteristica principale per ciascun migrante e ciascun richiedente esilio. Appunto casa è intesa come fascio di sentimenti, come relazione, come affettività, come base sicura di partenza per i propri processi di crescita. La perdita della casa che cosa determina in un migrante, in un rifugiato? Determina quello che si chiama il disorientamento nostalgico, lo struggimento nostalgico. Nostalgia è la parola esatta per descrivere questo sentimento appunto nostos come ritornare a casa e algos come dolore, il dolore del ritorno a casa, che nel caso di queste persone, cioè di Soma, di Eritrei, Etiopi, sudanesi del Darfur, Togolesi, eccetera, eccetera, non è tanto il ritorno a casa perché quello è impossibile, in qualche modo l'Africa si configura come una porta del non ritorno, ma è il fatto di aver perso la home, nel senso che dicevamo, cioè come quella membrana protettiva, come qualcosa che c'era e che si dava per scontato e quindi si scopre che c'era soltanto nel momento in cui si perde. E poi la crisi della presenza è determinata anche da quello che Sayyad nel libro importantissimo La doppia essenza ci dice, l'essere parzialmente assenti lì dove si è assenti e non presenti lì dove si è presenti. C'è questo paradosso nella vita di migranti e di rifugiati, nel momento dell'arrivo di essere entrati a far parte di un contesto e di non farne ancora del tutto parte e chissà quando se ne riuscirà a prendere parte. E poi c'è la questione dell'etichetta. L'etichetta, profugo, rifugiato, clandestino, straniero eccetera. Attraverso le etichette si pensa di rendere visibile all'esterno l'identità di chi si sta parlando e nello stesso tempo pensiamo di sapere di che cosa hanno bisogno queste persone. Non incontriamo mai la persona in carne ed ossa, ma incontriamo sempre un essere teorico, etichettato in un certo modo. E questo è qualcosa che fa male a livello psicologico, a livello sociale alle persone. E questo è diffuso e trasversale a tutti i servizi a loro rivolta. Allora, la scuola e l'apprendimento della lingua rispetto a questo, al sentimento della crisi della presenza, al tempo dell'arrivo come tempo di perdita di autosufficienza, di regressione, che cos'è? È un tempo e uno spazio in cui appunto rassicurare la presenza. I migranti, i rifugiati, i migranti e i asilo sono anche persone che non dobbiamo considerare semplicemente come inermi e isolate. Sono persone che non hanno solo bisogni, ma che hanno anche desideri, che hanno una straordinaria vitalità, che hanno dei rapporti e delle relazioni all'interno delle comunità, hanno una incredibile capacità di adattamento e una incredibile capacità imprenditoriale, hanno una permeabilità all'esperienza e quindi al mettersi in gioco incredibile. Questi sono tutti degli straordinari punti di forza rispetto a quello che dicevamo fino adesso alla crisi vissuta nel momento dell'arrivo. E la scuola appunto si configura come uno spazio, un tempo di rassicurazione di questa presenza attraverso la costruzione di un contesto, di un contesto di condivisione, come ci diceva Alex Langer quando lui diceva la cosa che più scontiamo con i migranti, con le comunità migranti eccetera è la mancanza di contesti di condivisione, di contesti di familiarizzazione, dove costruire rapporti di familiarità, dove conoscerci e incontrarci in quanto persone. E badate secondo me la parola intercultura non vuol dire l'incontro tra culture, ma l'incontro tra due persone, cioè tra Marco e Rashid, e non tra un italiano e un marocchino prima di tutto. Perché nella migrazione ci possiamo riconoscere rispetto a quei temi antropologici universali che porta con sé, appunto l'abbandono della casa, il futuro, il superamento di prove e così via.